Dinosauro! George non vede l'ora di iniziare a decorare, vero? Oh, adesso scarico il tappeto! È piuttosto pesante! Ui, fatto! Ma caro, dov'è George? George! George! Oh, cara! L'abbiamo dimenticato in negozio! Ah, George! Mio dolce maialino! Dinosauro! Ehi! Oh! Cos'è quel rumore? Oh, George! Ti ho trovato! Pensavamo di averti dimenticato in negozio! Mamma! Peppa, smettila di gridare! Non riesco a trovare George da nessuna parte, caro! Mamma, papà! George è qui! Venite a vedere! Figlio mio! George, caro, stai bene! Tesoro, spostati! Dobbiamo srotolarlo! Dinosauro! Oh! 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 E ancora! Oh! 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 George! Bene, bambini! Passiamo alla ristrutturazione! Cari, non dimenticate di indossare le maschere! Dovrete mettere anche dei fulari in testa! Fular? Guarda, caro! È una maschera per il tuo muso! Così non respirerai la polvere! Mamma, anche noi ci mettiamo le mascherine! Dinosauro! Ben fatto, bambini! Mettiamoci anche un fular sui capelli, così non si sporcheranno! Dinosauro! Caro, ho una mascherina speciale per te! Mettila! Oh! Ora ci siamo! Il team di ristrutturazione è pronto! Siamo pronti! Dinosauro! Mamma, George e io andiamo a pitturare le pareti della nostra stanza! Andiamo, George! Dinosauro! Va bene, bambini! Fate attenzione! Cercate di non sporcarvi troppo! Caro, iniziamo ad attaccare la carta da parati! Ecco la colla! La dobbiamo mescolare e qui c'è la carta da parati! Prendi la scala! Adesso la colla! La stendo! Caro, dov'è la scala? Arrivo! Arrivo! Appoggiamo la scala al muro e poi stendiamo la carta da parati! Ci spalmo sopra la colla e di nuovo! La 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 la! Decorar! Decorar! La 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 la! Tesoro, sbrigati! Attento ai gradini! Oh! Aspetta, tesoro! Penso di essere rimasto intrappolato nella carta da parati! Caro, devi stare più attento! Bene, allora! Tentativo numero due! Bene! Salgo i gradini! Salgo i gradini! La sto attaccando, tesoro! Fatto! Tesoro, vieni a vedere il primo rotolo! Ah! Chi ha incollato la carta da parati così storta? È terribile! Non possiamo tenere la carta da parati così! Ah, vado a controllare i bambini! Mmm! Non mi sembra così male! George, disegniamo dei fiori sui muri! Dinosauro! No! Niente dinosauri! Fiori, per favore! Va bene! Allora, c'è il blu scuro e il rosso! Oh! Il rosso! Voglio dei bei fiori rossi! Versiamo la pittura in un secchio! Wow! Bene! I fiori saranno rossi! Vediamo! Vediamo! Uno, due, tre! Oh! È un po' storto! Mmm! Un po' così e alcuni così! Oh! È fantastico! Che bei fiori! Dinosauro! Verde! Dinosauro! Oh! Andiamo! Oh! Dinosauro! Gli artigli! Le zampe! Dinosauro! Peppa! George, cosa hai fatto? Avevamo detto che avremmo fatto i fiori! Non voglio un dinosauro! George, cosa hai combinato? Mamma! Come va, bambini? Oh! Bambini! Cosa avete combinato? Com'è successo? Mamma! È terribile! Il papà non riesce a mettere la carta da parati in modo uniforme! Caro, cosa stai dicendo? E i bambini hanno versato la pittura ovunque e fatto un pasticcio! Sono tutti sporchi! Ne ho abbastanza! Chiamo delle persone che sanno cosa fare! Pronto? Buon pomeriggio! Abbiamo bisogno di un professionista per le ristrutturazioni! Sì, grazie! Buon pomeriggio! Avete chiesto di me? Sì, sì! Siamo noi! Abbiamo chiamato per te! Tesoro! Ma forse posso farlo io! Lasciamo fare al professionista! Sai fare tutto? Sai mettere la carta da parati? Certo! E puoi disegnare dei fiori nella stanza dei bambini? Certo! Ah! Allora posso stare tranquilla! Eh sì! Questo pezzo dovrà essere tolto! Chissà chi l'ha attaccato così! Oh, cara! Non mi fido di questo operaio! Smettila, tesoro! Andrà tutto bene! Andiamo a prenderci un caffè al bar!